Buonasera a tutti dalla Tg regionale per sordi. È stato condannato stamani a 15 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, Patrizio Iacono, il 22enne di origine sarda, che nel febbraio dell'anno scorso seminò il panico, sparando all'impazzata dopo un litigio in un bar di un quartiere popolare alla periferia di Pisa. Il GIP lo ha ritenuto colpevole dei reati di tentato omicidio, lesioni gravissime con il vincolo della continuazione, porto abusivo di arma, detenzione illegale di armi e anche evasione. Sarebbe stato un momento di follia, secondo gli inquirenti, quello che ha spinto Stefano Castellari, 46 anni, a uccidere ieri a Viareggio il padre, 79enne, Roberto Castellari, al culmine di un litigio. Dopo che la polizia ha interrogato il 46enne, è stata ricostruita la dinamica della lite, sempre più frequenti tra i due negli ultimi tempi, durante la quale, secondo il racconto dell'omicida, il medico avrebbe mimato di voler colpire con una pietra ornamentale il figlio. L'autopsia stabilirà quelle che sono state le cause della morte dell'uomo, se per soffocamento oppure per le contusioni riportate con la pietra utilizzata per colpirlo alla testa. Furto e danneggiamenti nella sede della Will di Livorno, di via Cadorna. I malviventi si sono introdotti nella sede durante la notte, impossessandosi di tre computer portatili e danneggiando li arredi, alla ricerca probabile di denaro. Due macchinette del caffè e bevande sono state divelte, porte e armadietti sradicati. In poche settimane, denuncia la Will, è già la seconda volta che una loro sede toscana è fatta oggetto di gesti simili. Per fortuna i ladri non sono riusciti ad accedere ai locali del patronato e CAF, che svolgono quindi regolarmente i loro servizi. Un ventenne albanese è stato accoltellato alla schiena ieri intorno alle 20 e 30 all'interno del complesso che ospita la mensa universitaria in via Santa Reparata a Firenze. Il giovane soccorso dai sanitari del 118 è stato portato all'ospedale di Santa Maria Nuova, dove è stato medicato e dimesso con una proniosi di 15 giorni. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, ad aggredirlo sarebbe stato un conoscente, un suo connazionale, probabilmente per motivi di natura sentimentale. Traditi dal navigatore, tre turisti italiani si sono ritrovati con la loro auto sulla scalinata del Battistero del Duomo di Siena. È successo la notte scorsa, intorno alle 3, a un 34enne di Rieti, alla guida del veicolo con a bordo due donne, una 32enne romana e una torinese di 44 anni. Secondo quanto ricostruito dalle carabinieri intervenuti sul posto, il conducente della vettura stava seguendo il navigatore, ma non si è accorto della presenza della scalinata. riuscendo a fermare l'auto solamente sui primi gradini. L'uomo è stato sottoposto ad alcol test, che ha dato esito negativo, mentre il veicolo è stato rimesso sulla strada con l'intervento di un carro attrezzi. I carabinieri hanno anche accertato che la struttura monumentale non abbia riportato danni. La festa del 1 maggio ad Arezzo si svolgerà nel parco del Foro Boario a Pescaiola e non a Villa Severi, dopo che il presidente della provincia Chiassai Martini, in quota centodestra, non ha concesso gli spazi ai sindacati per motivi di sicurezza. A renderlo noto le stesse CGL, CIS e UIL in polemica con la decisione della presidenza della provincia, a cui hanno scritto due lettere. E percorrendo in velocità il lungarno Anna Maria Luisa dei Medici, non si è accorto, a Firenze, di un paracarro in pietra serena, posto a salvaguardia del loggiato degli Uffizi, vicino alla statua di Francesco Ferrucci, e ci è finito contro e lo ha anche staccato da terra. È accaduto domenica sera intorno alle 20. Ora, la dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale, che è intervenuta per i rilievi e per verificare se nell'impatto la macchina abbia causato danni anche al pilastro del loggiato, che risulta segnato da crepe. L'area è stata transennata in attesa che il perito assicurativo esegua un sopralluogo e determini l'ammontare della spesa a carico dell'automobilista. Beni per un valore totale di oltre 600 mila euro sono stati sequestrati a tre amministratori, due francesi e un italiano, di una società farmaceutica con sede a Reggello, in provincia di Firenze. Il sequestro è stato effettuato per equivalente delle imposte evase dalla società tra il 2012 e il 2017, mediante l'utilizzo di fatture false per circa 6 milioni di euro. Per l'accusa, l'emissione delle fatture false avrebbe permesso alle società di evadere IVA per 250 mila euro e l'IRAP per 270 mila. Organizzava corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, rilasciando certificati e patentini anche per la conduzione di macchine agricolo, forestali e di movimento terra. Il tutto però senza averne le autorizzazioni e facendosi pagare con versamenti direttamente sul proprio conto corrente. La Guardia di Finanza di Siena ha denunciato a piede libero una persona per il reato di truffa aggravata. L'uomo, servendosi del ruolo di presidente di un'associazione senza fini di lucro con sede a Roma, ma operante in Val d'Orcia, ha raggirato privati e denti pubblici per un totale di oltre 50 persone. Tutti sui pedali, in ricordo del grande Gino Bartali, torna domenica 5 maggio l'appuntamento con la staffetta Bartali, manifestazione dedicata al campione toscano, giunta alla terza edizione, che partirà da Piazza Santa Croce per arrivare al Museo Bartali a Ponte Aema. L'appuntamento è organizzato da WISP Firenze in collaborazione con Biciclettami, Comune di Firenze e Quartiere 3. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Teleton. Ora vediamo le previsioni del tempo per domani in Toscana, inizialmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con possibili nebbie o nubi basse nelle pianure, moderatamente instabile nel pomeriggio, con rovesci e temporali sparsi. Per quanto riguarda i venti sono deboli, i mari poco mossi, le temperature in aumento le minime e stazionarie invece le massime. Anche per questa sera è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci!